Rimuove i comedoni dalle zone più critiche ed effettua una pulizia profonda del viso con risultati quasi professionali, è l'aspira. Punti neri, un dispositivo di facile utilizzo che aiuta ad ottenere una pelle bella e sane in pochi step. Facile da integrare nella skincare routine, sicuro da usare ed efficace, funziona davvero ma solo con le dovute accortezze. In questa guida ti spieghiamo quello che c'è da sapere e mostriamo la classifica dei migliori. Iniziamo proprio dai migliori aspirapunti neri del 2023, ecco la classifica sempre aggiornata dei consumatori che li hanno testati e approvati. Migliore aspirapunti neri professionale Diamond Kit è l'aspirapunti neri professionale di Lume Skin con funzione anti-brufoli, esfoliante e levigante. Lume Skin, brand tutto italiano, propone un aspiratore punti neri realizzato con vera polvere di diamante, consigliato anche dai MUA. Professionisti è visto nei backstage della Milano Fashion Week. A renderlo speciale la capacità di rigenerare la pelle il doppio rispetto ai tradizionali aspiratori per comedoni grazie all'effetto. Esfoliante che rimuove le cellule morte e stimola la produzione di collagene e dell'astina. Ciò permette di avere subito una pelle più pulita, certo, ma anche resodata, luminosa e con una grana nettamente più omogenea. Il dispositivo è completamente indolore sulla pelle e grazie alla polvere diamante riesce ad effettuare una delicata microdermoabrasione senza provocare traumi. Il set è completo di tutto ciò che occorre per la pulizia del viso con quattro testine di differenti forme e dimensioni. La testina esfoliante elimina la pelle morte e stimola il ternovercellulare per una pelle più luminosa e compatta. La testina per punti neri contrasta efficacemente i comedoni bianchi e neri. La testina lift in leviga le rughe e le linee sottili. La testina per coppittazione migliora la cellulite e la ritenzione idrica. Si ricarica tramite USB ed è adatto a tutti i tipi di pelle. Disponibile nelle colorazioni Midnight Black, nero con dettagli bronzo, e Moonlight White, bianco con dettagli bronzo. 129,90€ disponibile Vedi dettagli Amazon. It is over 23, 2023 2046 Kizorx, aspiratore punti neri. Migliore kit aspira punti neri per skin care L'aspiratore di Kizorx è un'aspira comedoni di alta qualità consigliato per chi cerca un dispositivo completo per la pulizia del viso. Il kit contiene infatti un'aspira punti neri professionale, un rullo di giada in pietra naturale, 5 testine intercambiabili di diverse forme e dimensioni, Un set di pinzette per i punti neri e una base di supporto utile per conservare correttamente l'aspiratore. Punti neri e le relative testine L'aspira punti neri Kizorx è regolabile su tre livelli di potenza, realizzato in materiale waterproof ed è dotato di 5 testine intercambiabili. Testina scrub per rimuovere le cellule morte, testina grande per la coppettazione della pelle del corpo, testina piccola per microrughe e zone più sensibili, Testina ovale per punti neri e tonda centrale per rassodare. Particolarmente interessante la funzione riscaldamento, attivabile tramite il pulsante che raffigura un sole e che porta la testina. Posterior ad una temperatura di 45 gradi per aprire efficacemente i pori, preparando la pelle al trattamento. Il dispositivo è dotato di display LED ed è alimentato a batteria, si ricarica in un'ora e l'autonomia è di circa 2-3 utilizzi. Adatto a tutti i tipi di pelle, è l'ideale per rimuovere punti neri, punti bianchi, pelle morta, grasso, residui di cosmetici e di inquinamento e lenire le infiammazioni. Kizorx aspiratore punti neri con rullo di già da 35 euro in 97 centesimi disponibile vedi dettagli Amazon. It is over 23, 2023 2046 Rimplox. Aspiratore punti neri set Skincare Migliore aspira punti neri per pelle sensibile L'aspiratore punti neri Rimplox è il migliore per pelli sensibili perché dotato di pannello di controllo per regolarlo in base al tipo di pelle e necessità. Proposto in un ricco set Skincare comprensivo di pinzette rimuovi punti neri e pratica Spazzola in silicone per esfoliare la pelle del viso durante la detersione, ha un buon rapporto qualità a prezzo e risulta efficace sulle imperfezioni della pelle di viso e corpo. Le testine sono 4 e intercambiabili. Testina piccola rotonda per pelli sensibili, testina media rotonda per pelle normale, testina ellittica per trattare angoli di naso e bocca, testina grande rotonda per gli inestetismi della pelle del corpo. L'ampio pannello di controllo integrato consente di regolarlo in base al proprio tipo di pelle. È possibile selezionare pelle normale, pelle grassa o pelle sensibile per far sì che il dispositivo regoli l'intensità e risulti delicato. La modalità riscaldamento sprigiona un lieve tepore sulla pelle per prepararla al trattamento mediante apertura dei pori. Si ricarica tramite USB ed è waterproof. Rimplox aspiratore punti neri pulizia viso 26,97 euro Euro 25,97 disponibile vedi dettagli Amazon It is over 23, 2023 2046 È il migliore aspiratore punti neri per iniziare l'aspiratore punti neri Eliminare la pelle morta, pulire la pelle in profondità, rassodare e levigare la pelle matura. Delicato sulla pelle, è proposto in uno speciale set comprensivo di kit e pinzette per punti neri e si ricarica tramite USB in 120 minuti. Con autonomia complessiva di 20 utilizzi. La caratteristica più interessante è data, però, dall'ampio display LED tramite il quale è possibile selezionare fino a quattro modalità, ultra strong per pelle grassa, strong per pelle normale, normal per pelle secca e soft per pelle sensibile. L'ideale se si intende iniziare ad usare l'aspira come doni senza difficoltà e in tutta sicurezza. Attualmente non disponibile vedi dettagli Amazon. It is over 23, 2023 2046 L'aspira punti neri più venduto c'è un motivo per cui questo dispositivo è il più acquistato nella sua categoria e questo è sicuramente l'essere affidabile in qualsiasi contesto. Adatto a tutti i tipi di pelle, è dotato di una batteria lunghissima durata ed è costruito con materiali altamente resistenti e impermeabili. L'ampio display permette di selezionare la modalità di lavoro e visualizzare il livello di carica della batteria, per avere sempre tutto sotto controllo. 4. Le testine in dotazione Testina siliconica Per pelli sensibili grande, per punti neri ed eccesso di sebo piccola, per un aspirazione soft angolare, per raggiungere i contorni del naso. Gli acquirenti lo promuovono perché riesce a pulire la pelle in profondità, riducendo i punti neri, eliminando lo sporco e le cellule morte. Una sicurezza. Voglio al respiratore punti neri 6 in 1 26,99 euro 21,99 Disponibile 2 new from 21 euro in 99 centesimi Spedizione gratuita Vedi dettagli Amazon It is over 23, 2023 2046 Strumento per la pulizia profonda del viso Nasce in Corea come soluzione tecnologica I cerottini per punti neri, maschere nere ai classici metodi che tutti conosciamo Si tratta di un meccanismo solitamente alimentato a batteria, dalla forma ergonomica e dotato di testine intercambiabili contenenti Spugnetto per la raccolta dei punti neri aspirati Rimuove il comedone tramite aspirazione sulla pelle preventivamente inumidita con acqua calda e pori completamente dilatati Usare un aspirapunti neri su pori ancora chiusi è deleterio, poiché non si ottengono i risultati sperati e il rischio lividi è elevato Così come riscontrato da moltissimi utenti che lo hanno provato L'aspirapunti neri ha il compito di risucchiare grasso e sporcizia presenti sulla pelle, estrapolando il comedone alla radice Un'operazione che sulla carta potrebbe apparire come aggressiva ma con una buona manualità e gli accorgimenti giusti la pelle ne acquisirà tutti i benefici promessi L'uso è quello di un aspirapolvere ma per la pelle Difatti l'aspirapunti neri è un dispositivo che funziona tramite aspirazione cutanea, dunque dà il meglio di sé solo quando questa È perfettamente detersa, precedentemente inumidita con acqua calda per favorire l'apertura dei pori Per questo un aspirapunti neri funziona meglio dopo la doccia o la consueta skin care quotidiana Più i pori sono dilatati, maggiore sarà la sua efficacia In caso contrario i risultati saranno nulli o minimi e la pelle risentirà della forza aspiratrice dello strumento È necessaria dunque una data praticità Se l'aspirapunti neri non funziona non preoccuparti, è normalissimo avvertire delle difficoltà durante i primi giorni di utilizzo Ma con un po' di pazienza e dopo aver compreso il meccanismo riuscirai ad ottenere buoni risultati Per un uso corretto del dispositivo si consiglia di muoverlo con movimenti circolari sulle aree interessate Prestando attenzione a non fissarlo troppo a lungo su una determinata zona Meglio muoverlo sulla pelle per 5 minuti, evitando di focalizzarsi per troppo tempo Pena la comparsa di lividi cutanei Assolutamente vietato utilizzarlo in presenza di make-up o su pelle bagnata Di aspiratore punti neri si parla nella recensione a corredo di questo articolo, realizzato in collaborazione con Vui e Tester It per il quale ho provato l'aspiracomedoni New Day della Guzki, brand coreano in vendita su Amazon Le prime impressioni non sono state delle più rosee, devo ammetterlo Pur avendo una pelle grassa costellata da problematiche come quella dei punti neri che popolano con entusiasmo il mio naso e quella Dei pori ben visibili, inizialmente non ho ottenuto grandi risultati ma è stata con una buona praticità che la situazione si è praticamente ribaltata a mio favore L'aspira punti neri funziona, è davvero così dannoso per la pelle come si dice in giro? Scopriamolo insieme Packaging L'aspira punti neri si presenta come un dispositivo dalle forme ergonomiche per facilitarne l'uso L'impugnatura è pratica, la superficie liscia è purtroppo non impermeabile, oltre che soggetta a scivolamenti inopportuni Non può quindi essere utilizzato sotto la doccia o conservato in ambienti umidi come il bagno, pena la corrosione dei circuiti elettrici che lo compongono Il Blackhead Remover New Day è dotato di 5 testine intercambiabili così distribuite Una testina microcristallina con funzione Esfoliante Testina grande con funzione assorbente su punti neri Sporcizia e residui Testina piccola, perfetta per pelle sensibile o normale Una testina ovale con apertura ellittica per levigare rughe e ridurre i rossori Sotto le narici, una testina Blu-ray che sterilizza e purifica, diminuendo l'infiammazione post-remozione come donne nutrendo la pelle a fondo Nella scatola troviamo anche tre manuali di istruzione multilingue, un cavo USB in formato standard e un set di spugnette Assenti un caricatore elettrico, l'aspira punti neri si carica esclusivamente da un PC o da un adattatore USB compresa a muro Leggerissimo, permette di scegliere fino a tre i livelli di intensità e il suo uso è pratico e intuitivo Si smonta facilmente per il cambio delle testine e delle spugnette igieniche, la manutenzione è facile e veloce Consigli per l'uso Prima di utilizzare un'aspira punti neri accertati che sia del tutto carico All'apertura la batteria, da 600 ma, è parzialmente carica, lo strumento va ricaricato per almeno due ore prima dell'utilizzo Accertati che non ci siano tracce di acqua sul tuo viso né altri tipi di residui, la pelle deve essere asciutta e pulita Lega i capelli, togli ogni tipo di gioiello o oggetto che intralci il funzionamento dell'aspira come doni per una maggiore sicurezza È preferibile dilatare i pori prima di utilizzarlo Come? Non basterà altro che inumidire l'area interessata con dell'acqua calda, il momento ideale per utilizzare l'aspira punti neri è proprio Dopo la doccia, quando solitamente i pori sono completamente dilatati Accendi il dispositivo premendo sul tasto power una sola volta Si attiverà il primo livello di intensità, al quale seguiranno con altre pressioni il secondo e il terzo Il quarto azione alla funzione Blu-ray, fruibile a fine trattamento Ricorda che non serve assolutamente fissare l'aspira come doni su un unico punto del volto Va infatti mosso su tutta l'area interessata con movimenti fluidi e circolari Procedi così per 5 minuti La pelle sarà immediatamente più liscia, purificata e immune da lividi Manutenzione Trattandosi di un dispositivo per la pulizia del viso va necessariamente pulito regolarmente Nella confezione trovi un comodo set di spugnette da cambiare ogni qualvolta quella utilizzata sia satura di scarti Può inoltre capitare, anzi, è certo, che i punti neri si accumulino sul bordo delle testine In quel caso ti basterà rimuovere la testina e pulirla con acqua calda per sterilizzarla del tutto Non ignorare la manutenzione Comprometti il funzionamento del dispositivo e favorisci la proliferazione di batteri sulla pelle Come rimuovere i punti neri con l'aspiratore per comedoni Ho utilizzato l'aspira punti neri due volte a settimana per un mese con diverse funzionalità e testine Inizialmente la prova non è stata positiva Sebbene non abbia minimamente avvertito alcun dolore, la mia soglia del dolore è pari allo zero È giusto specificarlo, i punti neri rimanevano lì Imperterriti, resistenti persino al terzo livello di intensità La pelle si è leggermente arrossata ma appariva anche insolitamente più levigata e morbida del solito Ma nulla, loro erano sempre lì E la mia disperazione imminente Il più venduto, il segreto I pori dilatati Una sera ho deciso di fare sul serio Immergendo la mia povera faccia in un trionfo di vapori dati dall'acqua bollente Al di là del Immagine fantoziana I pori si sono dilatati a dovere ed io ho proseguito nella prova È incredibile come in questo caso il punto nero venga aspirato con una facilità disarmante Ho usato sia la testina grande che quella piccola Notando i residui sul loro bordo e depositati sulla spugna Sulla pelle rimangono purtroppo segni, screpolature, chiazze rosse e un lieve pizzicore del tutto bonario Dopo aver rimosso il punto nero, cosa fare e come comportarsi? Dopo aver aspirato il punto nero si passa la testina Blu-ray Che non pensavo potesse funzionare ma in realtà mi ha regalato tante soddisfazioni Tramite testina apposita con superficie piatta Quest'intensa luce blu rigenera la pelle e riduce tutte le infiammazioni in corso E sì, funziona davvero Perché la pelle comincia a tornare come prima, priva di rossori e morbidissima Un effetto sorprendente su cui non avrei scommesso l'ombra di un centesimo A questo punto si procede con il consueto trattamento idratante Dato che l'aspira punti neri secca parecchio la pelle dando vita a delle screpolature che mai immagini Quando hai la cute grassa e Ribelle È necessario applicare una crema lenitiva idratante per ristabilire l'equilibrio cutaneo Massimo due volte a settimana Questo per evitare di danneggiare la pelle o stressarla eccessivamente Meglio alternare l'aspirazione dei punti neri all'azione esfoliante Indicata per le pelli impure sulle quali esfolia alla perfezione Lasciando la cute pulitissima, morbida ma soprattutto con i pori notevolmente ridotti Tra i migliori in commercio, come scegliere l'aspiratore per punti neri? Questi sono i fattori che devi tenere in considerazione Sicurezza Non deve lasciare lividi Leggi sempre le recensioni Livelli di intensità Un buon aspiratore deve avere livelli di intensità multipli per adattarlo alle diverse esigenze cutanee Versatilità Non deve rimuovere solo i punti neri dal naso ma effettuare una pulizia completa del viso che includa anche la rimozione delle cellule morte e la purificazione cutanee dal sebo in eccesso Design Meglio ergonomico Costruito con materiali resistenti e facile da trasportare Facilità d'utilizzo Deve essere facile da usare, intuitivo e avere un display per selezionare le modalità di lavoro e vedere lo stato della carica della batteria Testine, più di una, devono essere realizzate in materiali ipoallergenici e sicuri per la pelle Aspira i punti neri e i punti bianchi tramite aspirazione meccanica degli accumuli di sebo e cheratina, liberando i pori ostruiti Si ottiene una pelle pulita in profondità, dall'aspetto più sano e luminoso I risultati variano in base al tipo di testina e livello di potenza utilizzati? Sì, l'aspira punti neri funziona se utilizzato correttamente e integrato in una skin care routine specifica per le proprie necessità Importante usarlo sempre su pelle già detersa, con pori a parti e su un livello di potenza regolato in base alla tipologia di pelle No, tuttavia è bene utilizzarli nel modo corretto, ovvero tenendosi alle indicazioni riportate in questo articolo o sulla confezione del prodotto Per evitare lividi è assolutamente sconsigliato insistere sempre su una zona, usarlo su pelle truccata o bagnata Come usare correttamente l'aspiratore punti neri Per usare l'aspira punti neri nel modo giusto ti sarà sufficiente pulire precedentemente la pelle con un detergente specifico e del Acqua calda per aprire i pori, quindi asciugare per bene e usare la testina adatta alla zona e al problema che si intende trattare Il tempo totale di utilizzo non dovrebbe mai superare i 5 minuti Ni, ovvero, si funziona e rimuove i punti neri come promesso ma non è un prodotto adatto a tutti Più che altro è necessaria una buona manualità per ottenere buoni risultati che altrimenti lascerebbero il posto al lividi bene evidenti Sebbene la pelle mostri segnali di miglioramento come pori ridotti o una lucidità meno evidente, soprattutto nel caso di cute grassa o mista, va specificato che possono insorgere problematiche quali secchezza e screpolature eccessive Per questo è opportuno utilizzare l'aspiracomedoni non più di due volte a settimana e per soli 5 minuti alla volta, facendo Seguire un'opportuna idratazione consigliato a chi vuole rimuovere con un'azione decisa i punti neri e migliorare l'aspetto della propria pelle grassa, mista, assicurandole una pulizia totale Per ulteriori chiarimenti sull'uso dell'aspiracomedoni, consigli e altre domande rimango a vostra disposizione nei commenti Alla prossima! Se ti puoi interessare, scopri anche l'aspira punti neri senza fili da viaggio 1 eamp.check, best choice aspiratore punti neri professionale Diamond kit formula mua vedi dettagli amazon IT 9,62 kizorx aspiratore punti neri con rullo di giada vedi dettagli amazon IT 9,33 rimplox aspiratore punti neri pulizia viso vedi dettagli amazon IT 8,94 aspiratore punti neri professionale rimozione di punti neri vedi dettagli amazon IT 8,35 voyor aspiratore punti neri 6 in 1 vedi dettagli amazon IT 7,7 alcuni aspira punti neri selezionati Prima di effettuare un acquisto verifica attentamente le recensioni di ciascun prodotto Potrebbe interessarti anche 3 gel in 1 anti punti neri di Garnier Revi maschera contro acne punti neri e macchie Fatta in casa 19,90 euro 59 molto buona 9,010 è necessaria una buona manualità per ottenere buoni risultati Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti.